Ormai siamo arrivati al secondo incendio, abbiamo un triste record. Come per la prima volta anche in questo caso il nostro totale e incredulo gesto, non riusciamo a darci noi una risposta anche perché fa male, fa molto male e triste. Avevamo ottenuto da poco la possibilità di ripristinare il Lido da parte del Comune di Catanzaro e ci avevano dato la possibilità di iniziare i lavori. Quindi stavamo già con la testa all'estate del 2018 ormai. Quest'altro colpo, ripeto, abbiamo la totale fiducia nella magistratura, nelle forze dell'ordine. Speriamo solo che sia celere la risoluzione dei problemi. Mi sembra di capire che non può essere un incidente, ma non posso mica dirlo io. Ci sono i vigili del fuoco che stanno lavorando e che prima o poi daranno questo risponso. Noi siamo stanchi. Ora, se vogliamo dare una risposta a chi, se c'è un colpevole, l'unica risposta che gli possiamo dare è quella chiudiamo subito, andiamo avanti con i lavori e facciamo l'estate del 2018 con un motto per non dire no e per non avere paura perché noi non abbiamo né paura né diremo di no. Se ci fosse data la possibilità, noi domani mattina inizieremo i lavori a cacciare le macerie con le mani se fosse possibile o necessario.